La storia della giustizia penale militare sui crimini di guerra tedeschi in Italia è una storia a quanto complessa e per certi versi tormentata. Una lunga storia che parte nel 1948 con il processo Kapler per la saggia delle forze addetine e si chiude 65 anni dopo, nel 2013, con il processo per la saggia di Cefalonia. 65 anni durante i quali non si può certamente parlare di giustizia, si può parlare di giustizia negata, di una giustizia tardiva. Possiamo suddividere questo lungo arco temporale in tre fasi. Nel primo dopoguerra si celebrano una quindicina di processi, alcuni molto importanti per stragi molto sanguinose. Il processo Kapler per la strage delle forze addetine a Roma, il processo Reder per la strage di Marzabotto-Montesole, il processo Strauch per la strage del padrone di Fuscecchio, il processo al generale Schmalz per le stragi dell'Appennino tosco-Emiliano e il processo al generale Wagner per il cosiddetto gruppo di Rodi, per alcune uccisioni avvenute nell'isola di Rodi. Poi, chiuso questo primo capitolo, alla metà degli anni Cinquanta, tutto si ferma. E bisogna attendere 35 anni, il 1994, perché si ricomincia a parlare di crimini nazisti in Italia. Ma se ne parla in maniera casuale. Si riapre un processo a carico di un ex capitano dell'SS, Eric Prick, soltanto perché questo nazista, rifugiato in Argentina come tanti altri suoi commilitoni, viene casualmente intervistato da alcuni giornalisti americani e la notorietà di questa intervista riapre il processo che si era sospeso, che si era interrotto nel 1946. Da questo evento casuale si apre una seconda fase, nella quale vengono celebrati pochi processi, soltanto quattro, due a Torino, uno a Verona ed uno a Napoli. A fronte di una mole gigantesca di fatti, di stragi, di decine di migliaia di vittime, la giustizia militare italiana produce soltanto quattro processi. Bisogna rattendere altri otto anni, nel 2002, perché si apra una più significativa pagina giudiziaria. Alla Spezia, presso la procura militare all'epoca esistente, si avviano centinaia di indagini. In cinque anni, dal 2003 al 2008, vengono celebrati undici processi per le stragi più importanti commesse in Italia dai tedeschi. Il processo per la strage di Sant'Anna di Stazzema, con circa 360 vittime, quello per la strage di Marzabotto-Montesole, con 800 vittime, quello per la strage di Civitella in Valdichiana, per Santa Renza e Vinca, e altri. A seguito della soppressione della procura militare da Spezia, avvenuta poi nel 2008, i processi ed indagini vengono trasferiti a Roma e a Verona, e qui si prosegue l'opera iniziata dalla procura militare da Spezia. Si giunge così al 2013, con l'ultimo processo celebrato su questi fatti, per le stragi di Cefalonio. In totale, dal 2002 al 2013, 17 processi. Praticamente la stessa cifra, lo stesso numero di processi celebrati prima dell'avvio di questa fase in tutta la penisola italiana, nei 60 anni precedenti. Cosa resta oggi di questi processi? Rimangono alcuni principi fondamentali, che potranno essere sicuramente utili anche per la giustizia internazionale sui crimini di guerra. Anzitutto, il principio che la rappresaglia non è un istituto applicabile a questi fatti. In secondo luogo, la problematica dell'ordine. In questi processi viene sancito definitivamente il principio secondo il quale l'ordine manifestamente criminoso non deve, non può e non deve essere eseguito dall'inferiore. Il militare non deve eseguire ordini manifestamente criminosi, altrimenti ne risponde insieme al suo comandante. Terzo principio, assai importante, è quello della imprescrittibilità. Questi fatti sono fatti imprescrittibili, cioè possono e devono essere perseguiti a prescindere dalla durata del tempo, dall'intervallo temporale che separa il fatto dalla sua punizione. Questo è un punto particolarmente importante, perché è significativo. Dobbiamo riflettere sul fatto che il dolore non va in prescrizione, il danno non va in prescrizione. Si è orfani per sempre. Decine di migliaia di orfani, di famiglie che hanno subito questi lutti terribili, hanno dovuto portare il peso di questa ingiustizia per decenni. È dunque indispensabile, necessario, eticamente corretto, che questo peso sia portato a maggior ragione da colui che ha provocato questo danno. Cosa lega queste vicende alla festa del 25 aprile che ci aggiungiamo a celebrare? Il legame è fortissimo, è netto. Su questi principi di diritto si fonda la nostra civiltà, la nostra attuale democrazia. La liberazione dall'invasore, la liberazione dall'oppressore, significa per noi affermare un principio di democrazia e di libertà. E in questa affermazione una parte sicuramente importante è stata anche effettuata dai processi e dalle indagini che sono state svolte faticosamente dalla giustizia militare.